Se non elimini questi cibi, allora non riuscirai mai a dimagrire. Buongiorno a tutti, benvenuti sul canale Il Coach, Il Trainer. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi qui sotto al canale e sono sicuro che questo contenuto vi sarà letteralmente d'aiuto. Molto spesso mi viene fatta la domanda, ma Nicola, io adesso voglio perdere qualche chilo oppure voglio perdere tanti chili, ma quali alimenti devo eliminare per uscire in questa mia impresa? Molto bene, ti deluderò perché in realtà non devi eliminare nessun alimento, ma facciamo un ragionamento insieme, torniamo un attimo indietro. Questo è un cioccolatino letteralmente sfocato, ma sono sicuro che voi avete capito di cosa si tratta, più o meno a circa sulle 60 calorie. Questa è invece una bellissima, buonissima e succosissima mela. Ok, perfetto. Sicuramente nella maggior parte dei casi le persone mi direbbero Nicola, ma il cioccolatino che hai in mano effettivamente è un'esplosione di gusti. Quando lo metti in bocca a me sta venendo effettivamente l'acquolina in bocca, infatti ce l'ho qui ma mi sa che dopo ce lo mangiamo pre-workout. Detto questo, chiaramente questo è un cioccolatino per cui ci si crea un'esplosione di gusti in bocca, qui invece abbiamo una bella mela per cui difficilmente si crea un'esplosione così straordinaria di gusti in bocca, anche se in realtà è veramente molto molto buona. E la risposta alla tua domanda, ovvero quale cibi eliminare? Effettivamente nessuno, ma aspetta un secondo perché voglio contestualizzare chiaramente questa risposta. Molto spesso ho visto contenuti in giro di personal trainer che, vabbè, non dovrebbero neanche fare questi contenuti, un nutrizionista e quant'altro che ci dicono costantemente elimina questo, elimina quello, togli l'altro, togli su, togli giù. Certo, chiaramente se vado a eliminare poi nel lungo periodo sto togliendo anche calorie, di conseguenza alla lunga perderò anche peso, perché se io tolgo calorie perdo anche peso. Ma la domanda che mi sorge spontanea è quanto è sostenibile per te, quanto riesci a mantenerlo nel lungo periodo, perché poi ricadiamo sempre in questo. È fondamentale che qualsiasi cosa tu stia facendo ad oggi sia per te sostenibile, altrimenti il circolo che molto spesso si ripete nel 99,9% dei casi è mi metto a dieta, perdo peso, sì, perfetto, vedo risultati e quant'altro, sono stimolato e motivato da questi risultati, a un certo punto i risultati vanno bloccandosi, cosa devo fare? Togliere ancora, cioè magari sono a 1000 calorie, 1200 calorie al giorno, cosa devo fare? Togliere ulteriormente per andare a perdere ulteriormente peso? Non ce la farò mai. E quindi cosa succede? Mollo. Ritorno alle vecchie abitudini, peggiorate, perché adesso sono peggiorate dalla voglia, dalla restrizione che ho creato fino al giorno prima e riprendo costantemente questo circolo con gli interessi, quindi è costantemente un cane che si morde la coda. Restrizione, vado a perdere del peso, riprendo costantemente il peso con gli interessi aggiunti, quindi se perdo 10 chili ne riprendo 12, ne riprendono 15. Ti suona familiare questa cosa? Molto spesso sì e immagino che anche a te suoni familiare. Perfetto, ecco perché questa mela da 75 calorie chiaramente difficilmente riuscirai a mangiartene 4, 5 o 6 di fila, giusto? Cioè difficilmente ti metterai lì sul divano a mangiarti 5 o 6 mele. C'è chi sicuramente riesce, bravi, anzi fatemelo sapere qui sotto nei commenti, ma nella maggior parte dei casi se una persona ha voglia di dolce non si sfonda di 5 o 6 mele, anche se effettivamente nella logica comune avrebbe molto più senso. Mangiarsi invece 5 o 6 di questi cioccolatini, qualsiasi essi siano e non ce l'ho assolutamente con questi cioccolatini, risulta invece molto 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 più facile. Ecco perché qui entra in gioco una regola fondamentale o una linea guida più che una regola, ovvero la regola dell'80-20. Cerca sempre di scegliere durante la tua giornata e contestualizzare l'80% di cibi più nutrienti e un 20% invece di cibi meno nutrienti. Supponiamo che il tuo fabbisogno calorico in deficit sia di 1700 calorie, ok? Sparo una cifra a caso, non è chiaramente personalizzata. A quel punto un 20% siamo circa sulle 300-350 calorie che possono derivare da cibi meno nutrienti. Cosa vuol dire meno nutrienti? Vuol dire cibi più industriali, cibi che contengono comunque più ingredienti, cioccolatini, dolci, gelato, caramelle, insomma cibi principalmente industriali, ci siamo capiti, quindi quelli che contengono comunque un mix di zucchero o sale letale, ok? No, in realtà non è letale, però è comunque un mix veramente straordinario, pazzesco per le nostre papille gustative. Dall'altra parte invece c'è un 80% dei cibi più nutrienti, vuol dire quei cibi composti principalmente da un ingrediente, nella maggior parte dei casi, come può essere la frutta, la verdura, carboidrati meno processati possibili, quindi va benissimo anche sicuramente la pasta, il riso, fonti di carni magre, come può essere il petto di pollo, il petto di tacchino, come possono essere anche comunque carni più grasse, carne di manzo e quant'altro, legumi, che possono essere fagioli, ceci, quello che preferisci, pesce, che può essere di qualsiasi tipo, quindi dal salmone al merluzzo al branzino, gamberetti al polpo, qualsiasi cosa, quindi comunque cercare di integrare nell'80%, quindi le calorie restanti che provengano principalmente da cibi più nutrienti. Ti garantisco che se tu riesci a bilanciare questa cosa, quindi andare di un 80% cibi più nutrienti, un 20% cibi meno nutrienti, quindi se ipotizziamo su 1700 calorie assumi 300, 350, anche 400 calorie da cibi meno nutrienti, quindi comunque puoi concederti dei cioccolatini, dei biscotti, dei dolci e quant'altro, e un 1400 calorie, 1300 calorie derivanti principalmente da cibi più nutrienti, ti garantisco che in questo modo la tua dieta sarà molto più sostenibile, non dovrai assolutamente fare la fame, perché comunque i cibi più nutrienti ti permettono di essere anche più sazio nel lungo periodo, perché contengono comunque fibre, acqua, minerali e quant'altro, questi alimenti invece chiaramente contengono, qui abbiamo sempre a parità di circa calorie, dai 75 calorie più o meno una mela media, 60 calorie un cioccolatino medio, quindi siamo più o meno a parità di calorie, ma chiaramente il livello di sazietà è completamente diverso. Se mi sparo il pomeriggio alle 4, 6 mele, se mi sparo pomeriggio alle 4, 6 cioccolatini, se mi faccio 6 mele, chiaramente sarò sazio, non dico fino all'indomani, ma fino alle 8 di sera, insomma, sicuramente nella maggior parte dei casi sarò sazio. Mi sparo 6 cioccolatini alle 4, alle 4 e un quarto mi mangio 10 mele, ok? O comunque mi viene sicuramente fame, perché oltre al picco glicemico che ci crea, chiaramente non è saziante, chiaramente occupa poco spazio, poco volume, nonostante le calorie siano simili. Ecco perché ti consiglio vivamente di fare questa distinzione, quindi 80% cibi più nutrienti, 20% cibi meno nutrienti, contestualizzo questo nell'arco della settimana e ti garantisco che seguirai una dieta realizzabile, sostenibile, che ti permetta di durare poi nel lungo periodo. E questo è quello che facciamo con migliaia di nostri clienti. Abbiamo seguito migliaia, oltre 6.000 clienti ormai negli ultimi anni con il nostro servizio di coaching, aiutandoli a contestualizzare proprio i cibi divertenti. Perché molto spesso la parola elimina sulla bocca di tutti, ma eliminare chiaramente è quello che rende più appetibile una dieta. Perché se tu sai cosa eliminare, chiaramente mi butto su quello. Se ti dico elimina i cioccolatini, chiaramente tu fra virgolette scegli me, perché dici cavolo vedi, finalmente ho trovato il colpevole. Ma ricordiamoci sempre che l'unico colpevole non è il continuare a puntare il dito verso sostanzialmente qualche alimento, ma il colpevole è riuscire a contestualizzare, riuscire a dare un contesto di quello che mangiamo durante la giornata. Quindi il colpevole, se così voglio anche amarlo, in realtà il responsabile sei tu. Quindi sei tu che devi imparare a gestire correttamente la tua alimentazione per riuscire ad integrare anche cibi più divertenti nella tua alimentazione. Detto questo, spero che il concetto sia passato. Ci vediamo presto in un prossimo video. Qui sotto in descrizione trovi tutti i link per fare una prova gratuita, per fare un calcolo del deficit calorico, provare la mia 5 giorni challenge. Insomma, clicca sui link qui sotto e spero che ti sia d'aiuto.